Sia ad un allargamento della maggioranza e al rimpasto, no a un cambiamento dell'attuale schieramento di governo. E questo all'orientamento emerso dalle prime consultazioni avviate dal sindaco di Taranto Rinaldo Melucci per verificare la tenuta della maggioranza e le eventuali variazioni da portare alla Giunta e agli altri incarichi di governo. La verifica è stata resa necessaria dal nuovo assetto dei gruppi consigliari, tra ingressi e spostamenti e dalla recente votazione in consiglio sul futuro dell'AMIU, con il mancato sì dei consiglieri Odone, Liviano e Pittaccio usciti dall'aula, e la reazione infastidita del sindaco che aveva subito ipotizzato un cambiamento del quadro di maggioranza. Alle porte, si sa da tempo, c'è l'ingresso di Italia Viva con i consiglieri Stellato e Casula e Patto Popolare con Bricci, anche sulla scorta dell'incontro romano tra il primo cittadino e Matteo Renzi. Chi si aspettava un niet secco da parte dell'APD si è trovato di fronte ad un atteggiamento pragmatico. Fiducia confermata al sindaco, nessuna rinuncia ad assessorati. Il calendario degli incontri prevede sabato 20 il clu con i pentastellati e lunedì il gruppo con critico verso l'ingresso dei renziani. Poi il sindaco opererà la sintesi. Italia Viva e Patto Popolare alla fine dovrebbero entrare in maggioranza. Difficile un loro approdo immediato ad assessorati, più probabile un ingresso nelle società partecipate, sarebbe in bilico, mancarelli all'AMIU, ma non solo. Il rimpasto in giunta invece dovrebbe riguardare le deleghe più che i nomi, forse con un solo cambio. La prossima settimana svelerà tutto.